Disney Junior presenta i magici momenti di Puppy Dog Pulse Bob aspettava due pacchi, ma uno è stato perso in mare Toccherà ai cuccioli rintracciarlo Ehi, guarda tutta quella sabbia sopra l'acqua Rolly, quella è una bellissima isola verde come quelle di cui ci parlava Arf Oh sì, forse è lì che potrebbe essere finito Non so se il pacco è lì, ma vedo qualcosa di familiare È il gabbiano Jonathan Ma guarda un po', sono Bingo e Rolly Ehi Jonathan, che cosa ci fai qui? Oh, sono qui perché quest'isola è uno dei miei posti preferiti Tutte le più belle cose che cadono dalle barche finiscono sempre su questa spiaggia Ecco perché anche noi siamo finiti sulla spiaggia, però non eravamo su una barca Sì, ma stiamo cercando un pacco che è caduto da una barca Bene, allora siete venuti nel posto giusto e com'è fatto questo pacco? Beh, se è come quello che ha già Bob, è un pacco e... E su un lato ha l'impronta di una zampa dentro una bolla Pacco con l'impronta di zampa dentro una bolla Pacco con l'impronta di zampa dentro una bolla No, non l'ho visto Oh, per tutti Bob, guarda! L'impronta di una zampa dentro una bolla È il pacco perduto, lo abbiamo trovato! Jonathan, c'è stato affolaiato sopra per tutto il tempo Dai, ti aiuto io a spostarlo Non così in fretta, cuccioli Se vi portate via questo pacco, dove potrò affolaiarmi io tutto il giorno? Che ne dici di quella? Oh, oh! Questa sì che è bella comoda! Non c'è molto da vedere in questa piscina rispetto all'oceano Ehi, cuccioli! Ecco i miei sommozzatori preferiti Bob! Bob! Ancora a nuotare? Aspettate un secondo Il pacco smarrito Ah, forse qualcuno deve averlo trovato e portato proprio qui Sì, lo abbiamo trovato noi, Bob! Ci stava sopra Jonathan Ah, quanto sono emozionato! Non vedo l'ora di mostrarvi la sorpresa che ho per voi Hai sentito, Bingo? Questi pacchi sono per noi! Indovinate un po' che cosa sono? Mini ventilatori? Attaccati a cose che sembrano le zampe palmate delle rane Sono delle pinne speciali per cagnolini Che vi faranno nuotare ancora più veloci! Più veloci? Ma eravamo già molto veloci! Wow! Questo è andare veloci! Guarda, sono un piccolo motoscafo! Ok, sono davvero fenomenali! Ahoy, cuccioli! Ahoy, Issi! Grazie, Bob! Sì, Bob! Grazie! Forza, cuccioli! Forza! I cuccioli erano felici di aver riportato a Bob la sua scatola Specialmente quando hanno scoperto cosa c'era dentro Continua a seguire i magici momenti E non perdere Puppy Dog Pulse su Disney Junior Tocca lo schermo per vedere altri video E segui Disney Junior per i tuoi programmi preferiti Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!